Ponte nelle Alpi è il comune più riciclone della provincia. La conferma arriva dall'annuale classifica stilata da Legambiente che mette in graduatoria i paesi che più si sono distinti nell'ambito della raccolta differenziata. La classifica premia i territori che hanno una produzione di rifiuto indifferenziato al di sotto dei 75 kg all'anno per abitante. Il primo posto non è una novità, dato che anche negli anni scorsi Ponte aveva guadagnato posizioni di prestigio. Noi siamo stati per 5 anni campioni italiani, poi naturalmente altri comuni hanno seguito il nostro percorso di raccolta differenziata spinta raggiungendo in altre località italiane risultati importanti quindi eravamo un po' scesi in graduatoria. Ci siamo ripresi il titolo, il merito va alle cittadine e ai cittadini che quotidianamente operano e aiutano l'amministrazione comunale in particolare Ponte Servizi a fare una raccolta di qualità. Diciamo che la nostra Ponte Servizi è una società sana con personale sempre validissimo, abbiamo un ecocentro dove si possono depositare i rifiuti in maniera appropriata. Un grazie particolare va a una persona speciale che con il suo lavoro ha contribuito a questo ottimo risultato. La comunità di Ponte delle Alti si stringe alla figura di Federico Pirobon che è stato amministratore della Ponte Servizi che praticamente l'ha fondata, l'ha sostenuta e che purtroppo recentemente è mancato quindi noi dedichiamo questo risultato al nostro concittadino questa figura davvero importante per tutti noi. Una sorpresa giunge però da Belluno il comune capoluogo è fuori dalla top 24. L'anno scorso la città aveva una percentuale di raccolta differenziata del 78,8% dato che evidentemente è sceso sotto la soglia per l'ammissione in graduatoria. Dopo Ponte nelle Alpi tra i primi posti figurano San Gregorio nelle Alpi e Livina Longo medaglia di legno per Feltre.